Ha sparato un colpo dal terrazzo di casa e ha ferito un operaio immigrato che lavorava su un ponteggio. Si tratta di un quarantenne che adesso è stato denunciato per lesioni personali aggravate ed esplosioni pericolose. L'episodio è avvenuto a Cassola, nel Vicentino. L'uomo raggiunto dal proiettile è un cittadino di Capoverde, un elettricista. Quando è stato colpito si trovava a circa 7 metri di altezza sulla pedana mobile. Il pallino di piombo si ha conficcato nella schiena dell'uomo di colore che è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Bassiano di Vicenza. La dinamica dell'episodio ricorda quello che ha causato il ferimento della bimba a Rom, un fatto che ha suscitato l'indignazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia non può somigliare al Far West dove un tale compra un fucile e spara al balcone colpendo una bambina di un anno, rirovinandone la salute e il futuro. L'episodio di Cassola non sarebbe l'ultimo. Un richiedente asilo originario della Guinea infatti ha raccontato ai carabinieri di Caserta di essere stato colpito al volto con una pistola ad aria compressa, facendo salire ad otto negli ultimi 45 giorni i casi di immigrati colpiti in strada con armi. Senza contare la sparatoria di macerata del 3 febbraio scorso, il processo a carico del 28enne Luca Traini è ancora in corso per tentata strage aggravata dalla finalità di razzismo.